Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 389 nuovi casi di Covid a fronte di 75.861 tamponi, decessi 28, 14 derivano da un ricalcolo dei dati in Campania relative al periodo aprile e maggio scorso. Continua il calo degli ingressi in ospedale, meno 20 e in terapia intensiva, meno 5, indice di positività 0,5%. Calano gli ospedalizzati, i Covid in Italia ancora 5 in meno, i pazienti in terapia intensiva per un totale che scende sotto i 300. In calo le persone in aria non critica con meno 20 pazienti. Sul fronte vaccini il Ministro della Salute e Speranza a margine di un incontro a Firenze ha precisato nella giornata di oggi con tutta probabilità l'Italia supererà 50 milioni di dosi. In questo momento probabilmente le abbiamo già superate. Quando spieghiamo che l'Italia è tutta in bianco dobbiamo insistere sulla campagna di vaccinazione anche contro le varianti la vera arma.